Con Marco Bortolami e la Ghirada per parlare del dopo sconfitta, con che umore si inizia a lavorare durante la settimana? L'umore è alto, la prestazione dei ragazzi è stata molto buona, in linea con quello che ci aspettavamo prima della partita. È un peccato perché era una grossa opportunità per noi per portare a casa un'altra vittoria, però diciamo che ogni partita ha suo andamento e sicuramente sarebbe stata una grande partita da vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Ci dà molta convinzione da un certo punto di vista e molta voglia di lavorare a affrontare il prossimo impegno al massimo. Che partita è stata questa? Perché tutti hanno parlato bene della Benettoni. È stata una partita molto aperta, giocata ad entrambe le squadre in maniera molto aperta, molto fisica. La risposta della squadra è stata di altissimo livello, in linea con una delle migliori squadre del Pro 14, per cui ci dà molta fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e in quello che ci aspetterà di fare nel prossimo futuro. È chiaro che l'umiltà e l'entusiasmo stanno alla base del nostro modo di lavorare, alla base delle nostre performance, per cui dobbiamo assicurarci di mantenere la linea che stiamo percorrendo. Dove bisognerà lavorare questa settimana? Dove bisognerà migliorare? Migliorare nella copertura di campo dei spazi allargati, perché Ospres è una squadra che gioca molto con i tre quarti, ha dei tre quarti molto fisici, che si è lasciati ovviamente con delle opportunità, possono far male. Il nostro pacchetto di avanti è competitivo, dobbiamo aggiustare alcune cose, ma credo che abbiamo tutte le capacità e le qualità per andare a suonsi e dire la nostra. Poi ovviamente la partita dirà, il risultato sarà quello che sarà in base a quello che succederà in campo. Ogni sconfitta comunque insegna qualcosa, quindi che cosa prendete da questa sconfitta? Sì, è importante imparare dalla vittoria e dalla sconfitta. Impariamo che siamo a livello delle migliori squadre di questo campionato, impariamo che non sempre la squadra migliore vince, in quanto ritengo che fossimo noi la squadra migliore in campo. Impariamo che magari ci sono degli episodi che possono anche andarti contro, ma nel lungo termine siamo convinti che il lavoro pagherà e ci premierà. Per cui manteniamo la linea che abbiamo mantenuto fino adesso e approcciamo la prossima partita nel migliore dei modi. Una prossima partita che potrebbe vedere anche dei recuperi, dei giocatori che recupereranno. Sì, un ragionato turnover è importante, uno per dare l'opportunità a tutti i giocatori di dimostrare il loro valore, perché lo stanno già dimostrando nell'allenamento e ogni giocatore ha bisogno di dimostrarlo in partita e far vedere quanto bravo è. Dall'altro, per mantenere le performance alte, un giocatore a questo livello e con questo rugby può giocare due, massimo tre partite e poi ha bisogno di un certo tipo di recupero, un allenamento specifico per ritornare al massimo. Per cui, fino a che gli infortuni ce lo concederanno, il turnover sarà un turnover ragionato, con un ragionamento dietro. I giocatori sono partecipi di questo. La fiducia reciproca è molto alta e credo che questo sia la base del modo nostro di scendere in campo e di fidarsi l'uno e degli altri. La partita sarà, perché il campo è sempre stato un po' ostico per il Benetton. Sì, è sempre stato ostico, ma questo è un Benetton diverso, per cui sicuramente scenderemo in campo a testa bassa, pronti a lavorare, sapendo che sarà durissima, però credo che se riusciremo a portare in campo quello che abbiamo fatto fino ad oggi nella prestagione con un approccio positivo e determinato, potremo essere della partita. Per cui, nessuna illusione che sarà una partita semplice, ma questa Benetton deve essere pronta ormai anche a queste sfide diverse rispetto al passato e a giocarsi le proprie chance.